Capitolo 22 Quella sera dormii con la felpa di Cam. Era una cosa stupida e melensa, ma non me ne importava. Il giorno dopo continuai a tenerla indosso, anche se fuori faceva caldissimo. Mi piacevano le sue maniche logore, il fatto che fosse vissuta. Era proprio una felpa da maschio. Cam era stato il primo ragazzo a rivolgermi tutte quelle attenzioni, ad avermi detto con sincerità che gli andava di uscire con me, a non sentirsi imbarazzato per questo. Quando mi svegliai, mi accorsi che gli avevo dato il numero di casa. Non sapevo perché. Avrei potuto dargli quello del cellulare. Mi misi ad aspettare che il telefono squillasse. Il telefono della casa al mare non squillava mai. Le uniche persone che chiamavano a quel numero erano Susanna, per sapere che pesce volevamo per cena, o mia madre, per ordinare a Steven di mettere gli asciugamani nell'asciugatrice o accendere la griglia. Mi misi in terrazza a prendere il sole e leggere riviste, con la felpa di Cam raggomitolata in grembo come fosse un peluche. Dato che tenevamo le finestre aperte, sapevo che avrei sentito squillare il telefono. Prima mi spalmai di protezione solare e poi mi misi due strati di olio abbronzante. Non sapevo se fosse un controsenso, ma pensai che fosse meglio prevenire che curare. Mi sedetti con una bottiglia di plastica riempita di tè freddo, una radio, un paio di occhiali da sole e alcune riviste. Gli occhiali me li aveva comprati Susanna anni prima. Amava fare regali. Quando usciva per fare una commissione, tornava sempre a casa con dei regali. Cose di poco conto, come questo paio di occhiali a forma di cuore, che secondo lei dovevo assolutamente avere. Lei sapeva esattamente cosa mi piaceva. Cose a cui io non avevo mai pensato e che non mi era certo passato per la testa di comprare. Cose come la crema per i piedi alla lavanda o una bustina portafazzoletto di seta. Quella mattina mia madre e Susanna erano uscite di casa presto, dirette a Dyerstown, per vedere una delle loro tante gallerie d'arte. E Conrad, grazie a Dio, era già andato al lavoro. Jeremiah dormiva ancora. La casa era tutta per me. Abronzarsi, in teoria, è divertente. Uno si immagina di sdraiarsi a prendere il sole e sorseggiare una bibita gassata, addormentandosi come un micione. In pratica, però, la cosa si fa abbastanza noiosa e si patisce il caldo. Ho sempre preferito prendere la tintarella stando in acqua piuttosto che sdraiata a sudare. E comunque si dice che ci si abbronzi più in fretta quando si è bagnati. Quella mattina, tuttavia, non avevo scelta. Per via della telefonata di Cam, intendo dire. Perciò me ne stetti là a sudare e sfrigolare come un pollo sulla griglia. Era una noia, ma necessaria. Subito dopo le dieci, il telefono squillò. Io mi alzai di scatto e corsi in cucina. Pronto? Dissi senza fiato. Ciao, belli, sono il signor Fisher. Oh, salve, signor Fisher, risposi. Cercai di non mostrarmi troppo delusa. Lui si schiarì la gola. Allora, come vanno le cose là da voi? Piuttosto bene. Susanna non è in casa, però. Lei e la mia mamma sono andati a Dyerstown a visitare delle gallerie. Capisco. E i ragazzi come stanno? Bene. Non sapevo mai cosa rispondere al signor Fisher. Conrad è al lavoro e Jeremiah dorme ancora. Vuole che lo svegli? No, no, non importa. Ci fu una lunga pausa e io mi arrovellai per trovare qualcosa da aggiungere. Ma lei, questo weekend scende giù? gli chiesi. No, questo no, rispose. La sua voce sembrava lontanissima. Richiamo più tardi, divertiti, belli. Riagganciai. Il signor Fisher non era ancora venuto a Cousins quell'estate. Di solito veniva il weekend dopo il 4 luglio perché era più facile allontanarsi dal lavoro dopo quel giorno di festa. Quando veniva accendeva tutti i giorni il barbecue e indossava il grembiule con la scritta, i cuochi se ne intendono. Mi domandai se a Susanna sarebbe dispiaciuto che il marito non venisse, se ai ragazzi sarebbe importato. Mi trascinai di nuovo al sole. Mi addormentai sul lettino e fui risvegliata da Jeremiah che mi spruzzava il tè sulla pancia. Piantala! Gli ordinai in modo burbero tirandomi su. Il tè mi aveva fatto venire sete. Ci mettevo sempre un sacco di zucchero e mi sentivo disidratata e sudata. Jeremiah rise e si sedette sul lettino. È così che hai passato la mattinata? Sì, risposi pulendomi la pancia e asciugandomi le mani sui suoi pantaloncini. Non essere noiosa, facciamo qualcosa assieme, mi ordinò. Io non lavoro fino a stasera. Io sto lavorando sulla mia abbronzatura, gli dissi. Sei già abbastanza abbronzata. Mi porti a guidare? Lui esitò. D'accordo, rispose. Ma prima devi sciacquarti, non voglio che tu mi unga tutto il sedile. Mi alzai raccogliendo i capelli flaccidi e unti in una coda di cavallo. Vado subito, aspettami, dissi. Jeremiah mi aspettò in macchina con il condizionatore a palla. Era seduto sul sedile del passeggero. Dove andiamo? Gli chiesi, mettendomi sul sedile del conducente. Mi sentivo una pilota provetta. Tennessee? Nuovo Messico? Per esercitarmi bene, devo andare lontano. Lui chiuse gli occhi e poggiò indietro la testa. Pensa solo a svoltare a sinistra in fondo al vialetto, mi rispose. Sì, signore, replicai spegnendo l'aria condizionata e aprendo tutti e quattro i finestrini. Era molto meglio guidare con i finestrini abbassati. Mi dava l'impressione di andare davvero da qualche parte. Jeremiah continuò a darmi indicazioni e a un certo punto arrivamo alla città dei go-kart. Fai sul serio? Questo posto è perfetto per fare un po' di pratica, mi disse sorridendo. Ci mettemmo in fila per le macchine e quando fu il nostro turno l'addetto mi ordinò di entrare in quella blu. Io gli chiesi, posso guidare quella rossa? Lui mi fece l'occhiolino e rispose, sei così carina che ti lascerei guidare anche la mia. Mi sentì arrossire, ma ne fui contenta. Quel tizio era più grande di me e mi stava facendo dei complimenti. Era incredibile. Lo conoscevo dall'estate precedente e non mi aveva degnato di uno sguardo. Mentre entrava in auto di fianco a me, Jeremiah borbottò. Che buffone, perché non si cerca un lavoro serio? Fare il bagnino è un lavoro serio? Ribattei. Jeremiah si accigliò. Tu pensa a guidare. Ogni volta che la mia macchina tornava alla partenza, il tizio mi salutava con un cenno della mano. Alla terza volta ricambiai il saluto. Facemmo un sacco di giri di pista, finché per Jeremiah non arrivò l'ora di andare al lavoro. Per oggi hai guidato abbastanza, disse massaggiandosi la nuca. Adesso guido io. Non feci discussioni. Guidò veloce, mi fece scendere sul marciapiede e si diresse al lavoro. Io rientrai in casa, stanca e abbronzata, eppure soddisfatta. Ti ha chiamata un certo cam, disse mia madre. Era seduta al tavolo della cucina a leggere il giornale con quei suoi occhiali con la montatura in osso. Non sollevò lo sguardo. Davvero? Esclamai, nascondendo un sorriso con il dorso della mano. Ha lasciato un numero di telefono? No, rispose. Ha detto che richiamerà. Perché non gli hai chiesto di dartelo? Prosegui io e odiai il tono lamentoso della mia voce, ma quando si trattava di mia madre non riuscivo a farne a meno. Fu allora che mi guardò, perplessa. Non lo so, lui non si è offerto di farlo. A ogni modo chi è questo ragazzo? Lascia perdere, risposi, andando al frigorifero per prendere un po' di limonata. Fa come ti pare, replicò lei, tornando a leggere il giornale. Non insistette, non lo faceva mai. Avrebbe perlomeno potuto chiedergli il numero. Se al posto suo ci fosse stata Susanna, mi avrebbe raccontato il fatto con voce cantilenante, prendendomi in giro e facendo la ficcanaso finché non le avessi rivelato tutto. E io lo avrei fatto, con piacere. Stamattina ha telefonato il signor Fisher, dissi. Mia madre tornò a guardarmi. Cosa ha detto? Non molto, solo che questo weekend non potrà venire. Mia mamma increspò le labbra, ma non disse niente. Dov'è Susanna? Chiesi. In camera sua? Sì, ma non si sente bene, sta facendo un pisolino, rispose mia madre. In altre parole, non salirei a disturbarla. Che cos'ha? Un po' di raffreddore. Mia madre era una bugiardanata. Susanna trascorreva moltissimo tempo in camera sua ed era triste. C'era qualcosa che non andava, ma non sapevo cosa.